Andiamo a vedere le fotografie, se possiamo sfogliare l'album. Questo è un pareggio, uno dei cinque pareggi a Torino con la Juventus, un 2-2 nel 1959. Poi ce n'abbiamo un'altra fotografia che riguarda esattamente, fatemela vedere. Ecco qua, questa è un'altra partita che noi abbiamo giocato a Torino e fu 1-1. Noi vediamo Charles, il grande gigante scozzese che praticamente cerca di intervenire di testa con a destra Brancaleone e sotto Seghedoni. Quella partita finì 1-1 e andiamo a fare gli spareggi poi a Bologna con l'Ecco e Udinese che purtroppo non ce la facemmo. L'Ecco e Udinese. Ancora avanti, andiamo a vedere. Questa è l'ultima, il 4-2 in Serie B e in quell'occasione Del Piero totalizzò la cinquecentesima partita con la Juventus. Abbiamo qualche notizia sull'arbitro anche, su Gervasoni? Abbiamo qualche notizia sull'arbitro Gervasoni? No, soltanto fotografie non ce l'ho di Gervasoni. Gervasoni ha arbitrato quattro partite fino a Corbari, Vicenza-Bari 3-0, Napoli-Bari, quella che segnò il gol, come si chiamava, Eramo? Eramo, Eramo. Poi Sassuolo-Bari l'anno scorso, il 3-1, che vincevamo fuori, è strappitoso proprio il buon Barreto e quest'anno la disgraziatissima cade all'asso da quel gol di Castiglia contro il Mare. Da allora è cominciata la caduta, non a ruota libere come scrivono molti giornali, ma è la caduta. Possiamo mostrare le immagini di ieri del triangolare, il Memorial Gianluca Guido, perché ieri è stata una bella serata al Circo Tennis Bari, dove si stanno giocando i campionati internazionali di femminili di tennis che noi trasmettiamo alle 14 con degli speciali, questo è il nostro Cristian Siciliani, in un intervento falloso. E com'è finita? Ha vinto la squadra dei giornalisti radio-televisivi, 3 erano di Telebari, però ha partecipato anche Ventura, oltre ai giornalisti da carta stampata, lo staff di Ventura, che ha giocato pochi minuti, non documentati da queste immagini. Stop, abbiamo chiuso per il giochino, se avete le risposte, possiamo mettere soltanto per chiudere il numero dell'SMS, magari il primo numero che arriverà con la risposta esatta, gli daremo il premio se è possibile. Gianni, allora, come te la vedrai questa partita? Ma della verità, io ero stato invitato dagli amici di Trani e avevo detto di sì, che sarei andato a vederla con lui, se non che all'ultimo momento so che la figlia di una nostra collaboratrice di studio fa la prima comunione, anzi, devo telefonare agli amici di Trani. Va bene, non appare il numero dell'SMS, pazienza, vuol dire che il gioco lo rifaremo la prossima settimana. Grazie a professore Antonucci. Ciao, grazie a voi. Ciao. 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 Grazie a tutti.